Gianrico Carofiglio, in tutta questa situazione il Partito Democratico come ne esce? Vedremo come ne esce, al momento ci sta dentro, diciamo così, è con qualche difficoltà che è legata certamente alla risoluzione. Cioè il Partito Democratico che ha detto o Conte o il voto fino a pochi giorni fa e che si ritrova Draghi in questa situazione. Il Partito Democratico aveva detto anche non faremo mai il governo con Conte alla vigilia del Conte Bis, quindi insomma vale per il PD purtroppo quello che vale anche per altri, cioè una certa tendenza alla volatilità delle affermazioni. Il Partito Democratico si trova in una situazione difficile ma che può essere, diciamo così, il banco di prova di una consistenza politica che poi dovrà andare a essere verificata quando si andrà a votare. Quando si andrà, io credo che si andrà a votare l'anno prossimo inoltrato dopo le elezioni del Presidente della Repubblica. Il PD ha un problema di sostanza di linea politica, un problema di gruppo dirigente che è poco percepibile, nel senso che c'è una segreteria che noi conosciamo poco e questo non va bene. Il passato del Partito Comunista e degli altri partiti che hanno preceduto il PD era un passato in cui c'erano gruppi dirigenti riconoscibili. Posso chiederle cosa pensa della famosa polemica, ma i nostri telespettatori magari non l'hanno tutti letta così. Allora, vediamo, c'è stato un articolo di Concita De Gregorio su Repubblica che ha, diciamo, attaccato in modo duro, con toni molto duri, il segretario Zingaretti, proprio sul tema della riconoscibilità della personalità del leader, no? Uno dei passaggi è questo. L'articolo poi continuava, ma il tema era questa identità molto sbiadita. Zingaretti ha risposto con un post che nella pagina di Concita De Gregorio ho visto solo l'eterno ritorno di una sinistra elitaria radical chic che vuole sempre dare lezioni a tutti, ma a noi ha lasciato macerie sulle quali stiamo ricostruendo. Chi ha ragione, secondo lei? Tremo nessuno dei due. Sono amico dei due protagonisti di questa polemica e credo che tutti e due abbiano sbagliato. Il tono dell'articolo di Concita De Gregorio, lo dico, ripeto, con amicizia, non mi è piaciuto. Alcuni spunti in particolare mi sono sembrati. Ognuno fa quello che gli pare, naturalmente, ma parecchio discutibili. Detto questo, il segretario di un grande partito non si mette, secondo me, e lo dico davvero anche qui con simpatia, a polemizzare nel merito di un articolo critico, quanto si vuole, con un giornalista che ha fatto il suo lavoro. Bene o male lo devono giudicare i lettori. Io non avrei risposto e se proprio avessi pensato, ritenuto indispensabile rispondere, avrei risposto in un modo diverso. Alessandro.